Allarmante intimidazione, scherzo di pessimo gusto, ora aspetta i carabinieri chiarire il quadro dietro l'episodio sicuramente inquietante che vede protagonista un noto commercialista trevigiano con studio a Silea. Sabato mattina il professionista ha trovato nella cassetta della posta dell'ufficio una cartuccia, non una busta né un biglietto ad accompagnare il bossolo riposto da ignoti nella buca delle lettere verosimilmente durante la notte. Si tratta di una cartuccia salve senza ogiva presumibilmente di una pistola scacciacani. Immediatamente il commercialista si è rivolto i carabinieri della locale stazione per denunciare l'accaduto. La cartuccia verrà ora sottoposta a tutti gli accertamenti da parte dei militari dell'arma che adesso stanno anche passando al setaccio le telecamere di video sorveglianza della zona alla ricerca di qualche elemento che possa aiutare a far chiarezza sull'episodio. Un gesto sicuramente inquietante, forse una minaccia che potrebbe essere legata all'attività professionale del commercialista.